non mettetevi contro di me oddio il piatto indistruttibile non è più indistruttibile c'era un piatto qua letteralmente qui che era indistruttibile cioè tu potevi picchiarlo quanto volevi non si distruggeva a me serie vuole una peta di pizza solo se solo se una margherita fatta come si fa a napoli guarda qua la margherita non si faceva col salame e ora non c'è più ferie spara paponzi ponzi ponzi spara paponzi ponzi oggi il messerio è tutto felice spara paponzi ponzi ponzi spara paponzi ho bisogno di cure spara paponzi ponzi ponzi spara paponzi c'è paladins what the fuck su xbox abbiamo notato che c'è paladins dietro quanto costa ma c'è paladins costa 40 euro what the fuck che c'è detto che era gratis no è un problema se qualcuno ha detto che era gratis paladins è gratis no 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 fidati non ce l'ho io davanti paladins frate l'ho scaricato gratis l'ho scaricato gratis sta epico io allaggia santo dio ce l'ho davanti io non è gratis no 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 non l'ho sparato la t nice oddio c'è hitman beh hitman non è un brutto gioco dai ma poi c'è gra ma sei sicuro che non lo è possibile si fidati ma se me è d'accordo sono no secondo me stai vedendo la delizione deluxe tipo no esiste una canzone deluxe si c'è la golden edition la deluxe no comunque costa tanto ma è sempre stato gratis è sempre stata la copia gratis di overwatch e invece ma e invece e raga però mi serve la cazzo di cucra la fine sottometti al mio volevi volevi forse grazie no è gratis se ne volevi eh no è gratis ma se vuoi su Xbox perché da PC è gratis no non penso cioè perché da PC è sempre stato gratis da PC ovunque da PC ed è diverso da Steam scommetto giusto? no qualsiasi store sia Epic che Steam ma tutto dove l'hai preso? tutte e due le parti in realtà anche dal sito loro ufficiale perché non c'avevo Epic una volta ok quindi cosa ho quindi l'ho preso più volte ah minchia mi hai rubato la kill mi hai rubato la kill sorry brother non volevo eh ma hanno ucciso 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 il ce l'ho gratis c'è anche Watch Dogs 2 cioè comunque giochi che si conoscono terraria Brodery mi servirebbe una mano eh quando ci siete vai vai ho fatto una double tripla quadrucola eh ma Bob è forte pentakill ma come penta c'è vabbè c'è Ripper ancora vivo no come per un cc5 no brodero c'era Ripper fra fratto ho visto a destra il counter no fa vede tutte le kill bro ho contato non sto scherzando c'era Ripper la vabbè hai respawnato non è che hai ucciso tipo un altro retto qualche cosa ucciso eh mi sfatti si eh non me ne so ancora un pentakill vabbè come la dà come uccisione eh beh è ovvio cioè ti dice il nome della torretta cioè è ovvio cioè avete per caso una si me come caso si chiama quella tipa lì che farà robe o laser o laser o come si dice o a fare min c'è a fare a a a a ms l no Ripper da dietro raga Ripper da dietro no 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 ma posso no 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 quale sta giocando a doom al momento no no non al momento in situazione situazionalmente in generale si no ok quale sta giocando eternal no non ho mai visto non ho mai visto god damn che gameplay non l'ho mai visto è molto filicola so che cos'è c'è il doomslayer so chi è ok vabbè no non mi è partita una shotgun la doppietta sono l'ha uccide quella doppietta le sta piacendo molto guarda ma ho ucciso prima che partisse ma in realtà è tipo la terza volta che lo gioco dici davvero? si ci lo consiglia? si se lo gioca per la terza volta eh beh magari lo gioca la terza volta per fare un platino che ne sa no 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 io in realtà ho un platino ed è quello di spiderman 2 cosa hai fatto? hai completato dieci volte? no no c'è una cazzata quello di spiderman 2 cioè? sono cose molto basilare quindi io l'unico platino che hai su gear 5 però è difficilissimo non è una roba non è una roba devi completare un capitolo senza prendere dalle madonna secondo me spero di essere io eh stai quanto dura un capitolo? 12 vai mi hanno fatto fare quello più difficile guarda guarda 2 kill 3 ah ecco zeus e la torretta eh eh allora eh vabbè quadrupla quindi ho fatto la quadrupla vabbè quindi ha fatto la quadrupla vabbè quindi ha fatto la quadrupla Grazie a tutti.